Sì, scusate! Wow! È la fragola più gigantesca che abbia visto in vita mia! È pesante! Sì! Ma a parte questo, sembra una normalissima fragola fresca assolutamente deliziosa! Si muove! C'è mancato un pelo! Hai una piccolina attaccata ai pantaloni! Lévamela, levamela, salammela! Ehi, aspetta, aspetta, fermo! Sam, non toccarla! Mettila giù, mettila giù! Ma guardala! Fai sul serio? Credo che la chiamerò Fra! Ok, senti, potresti per favore mettere giù Fra? Ok? Dobbiamo trovare il Fultus Buffer in modo da spegnerlo con il mai più sostituibile fregata USB! Ehi! Non è per te! Mi serve! Per favore! Quel fregata USB è importante! Nuh? Nuh, sì! Nuh? Non fatela scappare! Ferma! Ferma! Presa! Prendila tu, prendila! Dovrai portarla con noi finché non me spellerà il fregata USB! E per spellere tu intendi dire... Zai! Sarà meglio muoversi prima di incontrare altre creature? Zai!